Oggi ho speso più di 200 euro per trovare la skin di Sonic.exe, ci sarò riuscito, restatene con me nel video per scoprirlo E oggi c'è anche Frostinox nel video con noi Ciao ragazzi, qui con voi c'è Frostinox Ok, siamo qui ragazzi per trovare Sonic.exe, guardate, faccio il giro della ruota gratis Dai, 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 vediamo se lo troviamo subito, forse potrebbe uscire subito, eh Oh, ragazzi avete visto Sonic.exe, è passato prima, tornate in seguito con il video per vederlo L'ho visto, sono sicuro Autorizza Ok ragazzi, ho fatto i miei acquisti, quindi dovrei avere un altro giro gratis in più e poi andiamo a scioppare i nostri giri Ah, vediamo i tuoi giri Vai, secondo te Frostinox cosa troverò qua dentro? Secondo me pescherai un bel granchio, perché non si trova mai niente di bello Vai, io vado Dai, 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 incrociamo le dita delle mani dei piedi Dai, 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 dai Uh, sta per uscire Hit Oh raga, quello era Sonic.exe, c'è Sonic.exe È epico Sonic.exe ma non l'ho trovato però Mi dispiace È già qualcosa E adesso ragazzi andiamo a comprare il pass Attiva Uh, riscuotiamo tutto quello che possiamo riscuotere Wow, povera schiena rara Incrociamo le dita, speriamo che esca Sonic.exe ragazzi Guardate, c'è sangue sul schermo Questa deve essere la ruota giusta C'è Amy.exe Raga No, per un pelo meccano No, dai E mi hai il cactus troll Mi hai proprio trollato Ma è questo il carino dopo tutto? Ma è skin rara, skin rara Dai, incrociamo le dita Incrociamo le dita, speriamo che esca Sonic Dai, stava per uscire anche Amy.exe, quindi può uscire anche lei E mi hanno spiegato che se noi sblocchiamo Uh, bella questa Se noi sblocchiamo Sonic.exe Potremo sbloccare anche le skin di rarità Galaxy Vai, andiamo, andiamo, andiamo Altro giro, altra corsa Speriamo che esca Rimanete con me Sto spendendo un sacco di gemme Speriamo che esca qualcosa Sì, sì No, dai No, no, è carino È carino Ditti l'uccellino Lo so che è carino Ma non mi puoi trollare così però Animazione Uh, questa è epica, questa è epica Raga, incrociate le dita Dai che esce Sonic Questa è la ruota epica superiore Epica superiore Guardate lo sfondo della ruota Sta diventando Galaxy No, non c'è Non è uscito Sonic Ma c'è la volpe Che bello Ma l'equipaggio subito, vai Bellissima Uh, Foxy di FNAF è uscita, ragazzi Guardate, ragazzi Final Night at Freddy's Foxy di FNAF Oh, ma quello era Sonic.exe Tornatevi a vedere il video per vederlo L'ha visto anche Frostinox Se l'avete visto Confermatemi con hashtag L'ho visto Iscrivetevi e attivate la campanella Per imparare del video Di tutti i prossimi video E condividete con almeno Tre dei vostri amici Nel prossimo 3 secondi Se no Sonic.exe Vi verrà a mangiare stanotte Vi toglierà tutte le gemme Che avete su StumbleGuys E vi farà perdere sempre No, no, no Io vado subito a metterti like Ho paura Solo che il video non è ancora uscito Io ho ancora più paura Siete pronti? Facciamoci tre giri di epica Speranno che esca Sonic E poi andiamo con le rare Dai Dai, 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 dai Primo giro Uh, il diavoletto Che carino Ho un toro Mi hanno scordato che queste sono ruote Che vanno uno dietro Ah, sì No, no Dai, ma che schifo Il dottor Frustil Che sfiga Mi stava per uscire la leggendaria figa Niente, niente No Ah, con i c u a Non è uscito niente Andiamo con un po' di rare Cinque rare, vai Dai, 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 dai Vediamo cosa esce Raga Raga No, un'altra volpe Incrociamo le dita Ti prego, ti prego Sonic, Sonic, Sonic L'ho preso Questo, raga, è Sonic Però è andato troppo veloce Non siete riusciti a vederlo Perché va super veloce ora Ok Ora andiamo a vederlo Comunque Sonic, eh Dai, 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 dai Ce l'abbiamo fatta, quindi Rara Ok Una leggendaria Ragazzi Ragazzi Incrociamo le dita Adesso Il pandino Il pandino Paura non ne ha Il pandino Paura non ne ha Ok, ragazzi No, dov'è No Se clicco qua C'è Sonic.ex È fichissimo E' la cosa che successe a me alla fine È fichissimo, raga Lo voglio Pure a me è successa una cosa del genere Cliccavo la schiena e poi arriva Sonic Ma che figata è pure qua nello schermo principale Andiamo ad aprire altre casse Ragazzi ci siamo La ruota come vedete è diventata ruota Galaxy Le skin sono tutte versione Galaxy Guardate questa per esempio Ah no, questa non è Galaxy Scusate Ma ce ne sono tante che sono Galaxy Guardate Per esempio No Dai per un pelo Non riesco a trovare una skin Galaxy Ci sono le skin Galaxy però Eccola questa per esempio No Bella Ora vabbè ve lo faccio vedere Però stiamo girando la ruota Galaxy Non so perché nella ruota app sono buggate le skin E compaiono normali Ma sono le skin Galaxy Guardate Ok, speriamo di sbloccare altre skin epiche strane Forse c'è anche emi.exe che possiamo sbloccare Tails.exe Lasciatemi il piace se volete vederli Dai, 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 dai Oh, lo scheletrino Galaxy Guardate Avete visto Bellissimo Bello Vieni ragazzi Lasciate tanti È veramente bello lo scheletrino Galaxy Sì No È il robottino Dammi il robottino Non mi dà le epiche che ho già Voglio la skin leggendaria Il robottino Sì No Il maghetto È pure doppione Pure doppione Non si trova niente Sì 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 Ninja Kai Ragazzi I ultimi giri Ultimi giri speriamo Niente Ho trovato Spartacus Ma che cacchio Ragazzi forse c'è il ritorno di Huggy Wuggy Mi ha jumpscareato qui Avete visto Forse sta per tornare No Io ho paura sinceramente Se rimanete fino alla fine del video Vi svelerò un trucco per Poter girare le ruote epiche infinite volte gratuitamente tramite un bug Dai 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 Oh quella era Tails Sono arrivati a un passo da Tails ragazzi Oh mio dio Ma aspetta ma ci sono anche loro Allora anche Amy, Tails Sì le abbiamo viste prima Però non so perché non sono riuscite a trovarle Adesso abbiamo 35-70 Un giro solo mi sa Sì un giro solo di epica Dai dammi una skin bella Dammi una skin bella Ti prego Il drago Il drago Dammi il drago Dammi il drago Dammi il drago Dammi il drago Non mi dare questa Non mi dare questa che ce l'ho già Dai Ma come equipaggia ora È un doppione Però possiamo girare un'altra volta la ruota Ma dopo non puoi venderli giusto Sì Ti prego dammi il drago Dammi il drago Dammi il drago Il drago Il ninja Dammi il drago Il drago del land Dai Dai Sempre doppioni Sempre doppioni No questo non è doppione Ragazzi ci hanno regalato tre giri gratis Dai 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 Freddy Defined at Freddy's ho trovato Wow Questa ragazzi c'è Frostinox l'hai vista anche tu Epico questo ragazzi Epico Ragazzi la potete trovare anche voi quella eh Dai 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 No adesso voglio trovarla anch'io sinceramente Oh bellissima Che scatole Ho trovato tutte skin boost Vabbè ragazzi andiamo a metterci il nostro scheletrino Bellissimo Scheletrinox Non dimenticarti il linux Guardate che bello il panda Allora lo so che voi volete Sonic.exe Ma in partita abbiamo visto che non funziona Perché lui diventa un personaggio che ci spia Quindi andiamo a mettere lo scheletrino Però è ricordato una cosa A volte lui appare nella partita A me è apparso Lo so infatti può apparire Guardate che figo il mio scheletrino Sì, Scheletrinox Lo Scheletrinox, ragazzi Iscrivetevi allo Scheletrinox O ve lo troverete a pranzare con voi Vi ricordo di guardare anche i nostri Shorts, i shorts miei e di Frostinox Che li trovate nei nostri canali Bellissimi, che bello, il mio Scheletrino È trasparente, tra l'altro, sono Prinox, no, 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 fermati Il mio dinosaurinox deve vincere Hai trovato il dinosauro alla fine? Eh, è un dinosauro quello marrone Bello, sei un velociraptor Oh, c'è Sonic, l'avete visto? Tornate in alcuni video da qua No, mi ha fatto lo sgambetto, Sonic C'era uno così male a Sonic che mi ha spinto Ma sei un grandissimo Frostinox Oh, è il corpo di Sonic, è il mio corpo a me Primo, yeah, yeah Dove sei, dove sei, vediamo Oh, guarda, questo Scheletrinox è bello È dietro a Sonic, ci sono qualificati io e lui Eccolo, Frostinox Corri, c'è Sonic, corri Bravissimo, c'è Sonic che ti fissa Sonic che ti fissa da là sotto Dovete fare attenzione quando ho giocato a Stumble, guys Perché quando lo trovi ti segui Noi dovete sapere che se tu trovi la skin di Sonic La puoi utilizzare Non la possono mettere nel gioco Ma noi abbiamo trovato i token È una cosa che non sapevo e vi ho spiegato adesso I token cosa sono? Delle cose per cui vengono state per richiamare i mostri E quindi noi fondamentalmente stiamo richiamando Sonic Non lo abbiamo in gioco È un hack Che se volete averla anche voi 10.000 mi piace e ve l'ha posto Oh, c'è la mappa di Sonic.exe Sono attenzione con il video se non l'avete visto Era lì Che figo Dai, speriamo che Sonic ci faccia giocare Almeno qui, oh, stiamo attenti Che poi voi non ci avete pensato Ma noi potrebbe essere che siamo nel sottosopra di Stranger Things Non nel galaxy, cioè nello spazio Forse siamo... No, no No, perché non hai detto? Adesso ho un po' di paura, sai Sì, ma è una figata... Aia! È una figata assurda Oh, no, 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 no Avete visto Stranger Things, ragazzi? Chi l'ha visto? Criva... Io l'ho visto Ah, stai, io l'ho visto Io, ragazzi, l'ho visto ed è stato fighissimo Vai, salta Troppo bello C'è Sonic che mi vuole raggiungere Non ci arrivi, non ci arrivi No, 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 no Mi sono qualificato No, 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 no Godo come un riccio appena nato Voi come godete, ragazzi? Scrivetemelo qua sotto nei commenti Dai, ragazzi All'ultimo sangue All'ultimo ketchup Che si qualificherà, ragazzi? Scopriamolo subito Io so dei trucchi per questa mappa Infatti bisogna sempre tagliare Ok, ce l'ho fatta No, non eseguiti i trucchi che dice lì Però intanto sono primo Ho tagliato la mappa Perché c'è degli spunzoni Salgo da lì io Sono primo, Dox Sono primo, Dox Sono arrivato Ho vinto E vince lo scheletrino Ragazzi Nella mia schermata di vittoria C'è anche Sonic.ex E' felice che abbiamo vinto Come vedete nel mio scheletrino Ha pure tra l'altro l'occhio di Sonic Perché sta Scusami Ma Sonic mi ha scritto una cosa Qua dicendomi Speriamo di no Manda manda Potrebbe essere Io spero di no ragazzi Cos'è questo suono Raga sento Ma sento anch'io Sento dei rintocchi strani Ma che cacchio c'è sulla parete Ma cos'è 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 lo vedi Lo vedi E' nato via Si era aperto un buco sulla parete Raga mi son preso un colpo Stanotte non dormo Mi dispiace Ma tutto bene a te scusa No niente No non è tutto bene per niente Giochiamo ragazzi Facciamo finta di niente Non ho visto niente Non ho sentito niente Non ho fatto niente Dai ragazzi E' una normale partita Fate finta di nulla E' una anormale partita Frostinox male partita Benvenuti nel pianeta Di sonic Punto ex Guarda che bello Carini e coccolosi Ragazzi Carini e coccolosi Carini e coccolosi Uh come ho fatto Questo è stato sonic E' lui E' lui che mi aiuta Guarda Spero se vado qua E' lui che mi aiuta ragazzi Mi sta guidando sonic Guardate Guardate sonic mi sta guidando Non lo so Allora vai tu per primo Sì ma c'è la gente davanti Non mi fanno andare Dai che c'è sonic Che mi vuole guidare Non mi bloccate Non mi bloccate lo scheletro inox Oddio forse sonic Lo vedo anche io Lo vedo anche io indietro Correte a trovare la strada No 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 Non sbagliate Correte Correte che si sta avvicinando Corretevi che si sta avvicinando Sono il primo Sono il primo Bravi inox Io sono second inox Scusate per queste battute ragazzi Ma è bellissimo Tra l'altro se volete Questa palla Con dentro la skin Di stumble guys Del Dello scienziato Arriviamo a 10.000 mi piace E la spedirò ad uno di voi Se commentate con hashtag Palla nei commenti Sì Non pensate male No non penseranno male Penseranno frost inox Ragazzi c'era Alla fine storica Punto ex che ci aspettavo Tornate indietro con il video Per vederlo se non l'avete visto E lasciate mi piace Per altri video Come questi Con le skin galaxy E iscrivetevi anche se non siete iscritti Mi raccomando Aia No Ho tagliato un'altra volta E sono di nuovo primi inox Ma sono proprio bravo ragazzi C'è Sonic che mi ha spinto via L'avete visto Tornate indietro con il video per vederlo Mi ha spinto L'ho visto E scrivetemi hashtag L'ho visto se l'avete visto nei commenti Lo so dovete fare tante cose Oltre a rimanere con me Fino alla fine del video Ma dovete farle Dai 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 Ce la possiamo fare Non sono primo però eh Ed è già un male questo Sta per rivincere Ti aspetto No non ti aspetto più Stavano arrivando i bambini Ma stavano arrivando i bambini C'era C'era Lion Che ti voleva rubare la vittoria Invece ho vinto io Yeeey Ma che cacchio Jamsker è Sonic Perché Sonic Jamsker interrompe tutti quanti Dai 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 Ragazzi il gioco sta sgricciando in maniera strana Credo che siamo giunti vicini alla fine di questo video Macaron de Macaronis ragazzi Ma rimanete fino alla fine per scoprire dei segreti Che vi svelerò tra pochissimo Infatti cosa vuoi Tu sei salvo Sono io che devo scappare Oh ce l'ho fatta Sono arrivato Dai ce la posso fare anch'io Ce la posso fare Io ce la posso fare C'è Sonic C'è Sonic qua sopra Ma mi qualifico lo stesso Primo E se ne andavo Sonic C'è il re del Burger King Burger Ragazzi ma la gente sta crashando tutta Sembra fatta apposta È come se Sonic ci volesse regalare la vittoria Perché ci aspetta qualcosa di brutto alla fine Avete notato come sembrano reglate le nostre vittorie C'è di solito io facevo una fatica disumana a vincere O la vinco sempre Con la minima facilità È arrivato Hit Si è qualificato Lo vuoi un palloncino? Ci siamo ragazzi Questo è il penultimo round E poi scopriremo che cosa c'era Ma in versione Galaxy È fantastico il gioco Sembra anche facilitato Raggiungiamo i 15.000 mi piace Per scoprire anche voi Come fare la versione Galaxy Anche senza Sonic.ex Uh uno è bruciato Che bello Ma c'è Sonic che ci guarda dagli spalti Sta aspettando Non me lo dire Non me lo dire Sta aspettando la morte di uno di noi Ma siamo tutti vivi Sì Oh Sonic Siamo fortissimi Guardate che bella La mappa in versione No raga La versione Galaxy La posso tenere anche nei prossimi video Me lo potete scrivere qua sotto nei commenti Perché è bellissima La voglio tenere Ma è già in versione Galaxy Detti sinceramente Sì ma qua è ancora più Galaxy Bella C'è tutta una città intorno E poi è tutta viola Bella Ci ho fatta Ho superato No 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 Ho vinto Tu eri quello del sì Che bella questa mappa Vediamo se posso sbloccare inox Qualcosinox Sì Possiamo cercare di sbloccare una skinerar ragazzi Ultimo giro del giorno E poi vi svelo dei segreti super epici Dammi Lion No mi ha dato l'altra versione di Teddy Bear Un Marzianox Ragazzi Ragazzi Sento David suoni Stai Ma che c'è il terremoto No la fotocamera Una fotocamera